La partenza è valida con Albeca Valagussa davanti, poi Melissa Gatti, poi Albeca Valagussa Poi c'è Gaglione Vinci in questa posizione, sono ancora molto vicine con Becca Valagussa e con Melissa Gatti, già vincitrice della gara d'eliminazione, medagliata ai campionati italiani. E adesso proprio Melissa Gatti, apre il gas, Melissa Gatti, apre il gas, il rettilineo ne ha molto più delle altre, con Becca Valagussa che cerca di chiudo, lunga leggermente ancora, anche il rettilineo Melissa Gatti. Siamo alla ultima curva con questa finale, segno femmine, Melissa e Rebecca, Melissa, Melissa Gatti, ancora lei e seconda posizione per Rebecca Valagussa.